Buon pomeriggio, torniamo in diretta anche questo mercoledì, sono le 16 e 15 in questo momento, un nuovo appuntamento con Spazio Salute, bentrovati a tutti voi che ci seguite da casa, oggi vi parleremo di una malattia della pelle, una fastidiosa malattia conosciuta come psoriasi, quindi mettetevi comodi per ascoltare i preziosi consigli dell'ospite di questo pomeriggio perché ne parleremo con il dottor Gennaro Melchionna, dermatologo in casa sollievo della sofferenza, bentrovato. Bentrovato anche a lei. Io ho generalizzato parlando di malattia della pelle, stiamo parlando appunto di psoriasi, ma come sempre a lei il compito di spiegarci innanzitutto di cosa si tratta. Grazie per l'invito, grazie per la domanda. La psoriasi chiaramente è una malattia autoimmune, è una malattia autoimmune che coinvolge inizialmente, quasi sempre inizialmente la pelle e si manifesta con aspetti classici di una dermatite eritematodesquamativa in chiazze. È una malattia a predisposizione genetica, per cui va ricercata la presenza della stessa malattia anche nei familiari. Non è una malattia a trasmissione genetica, ma a predisposizione genetica. A tutt'oggi sono stati identificati più di nove geni coinvolti nella malattia. Non è sufficiente la predisposizione genetica, ma è necessario che oltre alla predisposizione genetica poi facciano intervento altre cause nello scatenare la malattia. Quindi le cause scatenanti poi sono diverse, magari ne parleremo. anche delle cause. Io l'ho definita fastidiosa, perché anche poi vedendo adesso le immagini che stavano andando in onda, ci sono poi diversi tipi di manifestazioni, però già dalle immagini si capisce come effettivamente sia molto impattante nella persona. La forma più classica è la forma in placche, in grandi o piccole chiazze. Le chiazze è un termine dermatologico per definire delle macchie infiltrate, dove oltre all'infiltrazione in questo caso c'è l'eritema e c'è la desquamazione. Chiaramente sono impattanti sull'aspetto quotidiano e quindi coinvolgono tutti gli aspetti della vita quotidiana, ma non è solo quello l'aspetto con cui si manifesta la psoriasi. La psoriasi è una malattia variegata anche nei suoi aspetti clinici. Può presentarsi sotto forme pustolose, che intervengono in genere a livello palmo plantare, come dall'immagine si può vedere. Sul palmo delle mani. Esatto, sul palmo delle mani. Questo è uno stadio già avanzato della malattia che stiamo vedendo. La malattia è capricciosa. La malattia è una malattia, come tutte le malattie autoimmuni, è una malattia capricciosa. Può insorgere all'improvviso con forme estremamente gravi, ma insorgere anche inizialmente con forme localizzate alle mani e successivamente le stesse forme localizzate poi possono diffondersi a tutto il corpo. Ecco, che cos'è che deve metterci in guardia in modo da indurci poi appunto a rivolgerci al dermatologo specialista in questo caso? Quali possono essere dei campanelli d'allarme? Fortunatamente oggi le persone sono molto più attente rispetto al passato e quindi vengono a farsi visitare quando la malattia non ha più le manifestazioni classiche, gravi, aggressive come ce l'avevo una volta, ma comunque ci sono delle zone tipiche, classiche dei santuari di malattia. Per riconoscere la malattia la si va a ricercare nelle zone più tipiche, gomiti, ginocchia, osso sacro e qualche volta raramente inguine ascelle. Si chiama psoriasi invertita in questo caso. Altre forme classiche e localizzazioni classiche della malattia sono il cuoio capelluto, diciamo la zona auricolare e la zona palmoplantare, come dicevamo prima. L'interessamento degli annessi cutanei, quindi capelli, unghie, possono essere coinvolte anche nelle fasi iniziali, quando la malattia non ancora si manifesta e magari ci sono dei coinvolgimenti di altri organi e ci chiedono i colleghi, ad esempio i reumatologi, ma c'è psoriasi? Noi la andiamo a cercare anche nelle zone dove di solito non la troviamo all'inizio, quindi le unghie e alcune zone nascoste per cercare di fare una diagnosi sempre più precoce. Ecco, diamo subito una buona notizia però, altrimenti i nostri telespettatori si impressionano. La psoriasi comunque si cura, ci sono dei trattamenti che riescono poi a farci convivere con questa malattia in maniera abbastanza tranquilla. Come si cura? Quali sono i trattamenti? Allora, le cure della malattia sono molte e sono adattate alla gravità della malattia. La malattia in genere si classifica con forme lievi, moderate e severe. Le forme lievi chiaramente hanno un accesso soprattutto a delle cure locali, che si basano sull'utilizzo di topici. I topici sarebbero le creme, le emulsioni e molto spesso la malattia, quindi nonostante le forme cliniche che abbiamo potuto far vedere dalle immagini, ha delle manifestazioni lievi, per cui la semplice applicazione di un unguento, di una crema può mandare via alle manifestazioni lievi e tenere sotto controllo la malattia senza dover accedere a terapie più aggressive. Nelle forme moderate o moderate severe è chiaro che l'approccio è differente. Ci sono delle terapie di natura sistemica da dover pensare, diciamo, di intraprendere e delle terapie oggi sempre più avanzate. Poi capiremo anche appunto le nuove terapie, ovvero i nuovi farmaci, quanto anche la medicina ha fatto progressi anche in questo campo. Tra i tipi di trattamenti però esiste, ne esiste uno che è la cosiddetta fototerapia. A spiegarci che cos'è, di cosa si tratta e come funziona e anche, diciamo, quali sono i benefici è la dottoressa Angela Giuliani, sempre dermatologa in casa a sollievo della sofferenza. Ascoltiamola. La fototerapia è una metodica terapeutica basata sull'impiego di particolari apparecchiature che consentono di riprodurre in maniera artificiale le radiazioni ultraviolette, mimando, simulando così l'azione benefica portata dalla luce sorale nei riguardi della malattia psoriasica. Oggi in particolar modo si utilizzano una particolare lunghezza d'onda di queste radiazioni ultraviolette che è rappresentata dagli UVB a banda stretta, 311 nanometri, privata cioè della componente di radiazioni che può recare documento alla pelle. In particolar modo potrebbe favorire invecchiamento della pelle e l'insorgenza anche di tumori cutanei. Le radiazioni ultraviolette determinano sulla malattia psoriasica notevoli effetti benefici, in particolar modo riducono la componente infiammatoria e l'attivazione del sistema immunitario, in più riducono anche l'eccessiva moltiplicazione delle cellule che è una problematica tipica della malattia psoriasica. Pertanto è possibile in seguito a questa tipologia di terapia apprezzare notevoli benefici sulla pelle. Si tratta di una cura vera e propria, pertanto deve essere prescritta dallo specialista dermatologo e deve essere calibrata su ogni singolo paziente. Il dermatologo sceglie tipologia di trattamento da fare e durata. In genere le sedute, o meglio un ciclo completo di sedute, può durare fino a tre mesi con una frequenza di tre sedute a settimana e poi successivamente può essere scelta anche una terapia e una seduta di mantenimento con una sequenza prestabilita, a seconda dei risultati terapeutici ottenuti. Comunque l'efficacia di questo trattamento in genere viene mantenuta abbondantemente nel tempo, anche nei mesi a seguire. Una seduta singola è molto breve, può durare da pochi secondi, 20-30 secondi in genere, fino a pochissimi minuti. L'irradiazione del paziente avviene in apposite cabine che contengono queste sorgenti luminose e la cui funzione viene anche monitorata da un controllo elettronico. Prima di entrare in cabina il paziente deve indossare comunque degli occhialini protettivi per proteggere la cornea e la congiuntiva dalle radiazioni. Il dermatologo nella scelta di questa terapia comunque tiene conto di due particolari componenti, innanzitutto della tipologia del paziente e del paziente stesso, cioè della sua pelle, soprattutto osservando se è una pelle molto chiara che si può scottare con le radiazioni solari o se presenta molti nei. Ringraziamo la dottoressa Giuliani, sgomberiamo subito il campo da possibili equivoci perché appunto stiamo parlando di una terapia per la psoriasi, la fototerapia che viene fatta proprio in queste cabine che però nulla immagino hanno a che vedere con le cabine che vengono utilizzate per le lampade solari, non vorrei che magari si creasse questo tipo di confusione. Sì assolutamente, diciamo che la fototerapia che tra l'altro si pratica in ospedale ed è ed è un approccio mutuabile tra l'altro per gli psoriasici, per i pazienti affetti da psoriasi, è una terapia che nulla a che vedere con i solarium, nei solarium si utilizzano gli UVA e l'obiettivo chiaramente è l'abbronzatura e noi utilizziamo UVB a banda stretta e l'obiettivo è il processo antinfiammatorio, cioè l'efficacia contro l'infiammazione sulla cute che hanno gli UVB. Ha delle controindicazioni questo tipo di trattamento? Beh diciamo le controindicazioni sono poche, chiaramente può essere utilizzata anche in età giovanile, in età relativamente infantile, l'unica accortezza è evitare le terapie ad estrema cronicità, l'esposizione agli UVB per molti anni va comunque dosata e valutata insieme al medico di fiducia, al dermatologo di fiducia. Possono valere anche le stesse accortezze che si hanno quando ci si espone al sole, ad esempio mi viene in mente per chi è sotto antibiotici o comunque sta seguendo le trattamenti con farmaci particolari? Certo, alcuni farmaci tra cui gli antibiotici, alcuni tipi di antibiotici ed altri farmaci ancora possono aumentare, come i retinoidi, possono aumentare la fotosensibilità e quindi aumentare il rischio di macchie sulla pelle, quindi diciamo in questo caso il vantaggio viene inficiato dal rischio di danno da macchia solare, quindi danno estetico successivo anche alla scomparsa della malattia, ma diciamo con il residuo di macchia e in questo caso un'adeguata anamnesi permette di scegliere e selezionare il paziente giusto. In ogni caso comunque come ci spiegava appunto la dottoressa Giuliani è un trattamento che ha degli effetti benefici che possono perdurare anche diciamo nel tempo. Noi continuiamo a parlarne, continuiamo a parlare di psoriasi con il dottor Melchionna, ma lo facciamo subito dopo questa brevissima interruzione. E ritorniamo in studio, stiamo parlando di psoriasi in compagnia del dottor Gennaro Melchionna, dermatologo in casa sollievo della sofferenza, abbiamo capito di cosa si tratta, come si cura e come si manifesta. A inizio abbiamo anche accennato, adesso magari lo approfondiamo un po' di più, sui possibili impatti anche a livello psicologico che possono esserci nelle persone che vengono colpite da questo tipo di malattia, perché immagino insomma che ce ne siano poi anche di risvolti psicologici. Sì, oggi la tendenza è a chiamare la malattia non tanto psoriasi quanto malattia psoriasica, perché è una malattia completa che può avere diciamo più coinvolgimento d'organo. La malattia di per sé ha, diciamo nel suo quadro clinico, oltre alla localizzazione cutanea, anche l'interessamento delle articolazioni, ma si accompagna anche a tante comorbidità. Le comorbidità sono patologie di accompagnamento che uno si aspetta più frequentemente nel paziente con la psoriasi. La psoriasi in passato era considerata la malattia dei sani, in realtà oggi il quadro è stato molto rivisto e in realtà il paziente psoriasico purtroppo è molto più esposto rispetto alla media generale ad alcune malattie. Qui ne stiamo vedendo alcune che leggo appunto l'ansia, la depressione, patologie infiammatorie intestinali. Il corpo di Crohn e la retocolite ulcerosa sono più frequenti negli psoriasici. Adesso da qualche anno c'è anche un po' di collaborazione col gastroenterologo che quando trova una retocolite ulcerosa ci manda anche il paziente per l'eventuale valutazione della cute. Qualche volta le due patologie coesistono, tanto l'una quanto l'altra. L'aspetto particolare della cosa è che la stessa terapia spesso fa bene tanto alla malattia intestinale quanto alla malattia della pelle. Altre comorbidità sono l'ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica e quindi il rischio maggiore di sviluppare diabete e l'aspetto psicologico di cui parlavamo prima. E diciamo più o meno questo è quello che è il quadro generale. Con i trattamenti comunque adeguati dicevamo che la malattia in ogni caso viene ridotta ai minimi termini possiamo dire. Questo è quello che si può dire oggi sul piatto della bilancia, si può curare, si può guarire, forse il termine guarire forse non è adeguato, però la malattia è estremamente curabile. Io sono un uomo fortunato, un medico fortunato a lavorare in questi anni in cui i farmaci a disposizione sono dei farmaci che riescono a tenere molto bene sotto controllo la malattia e a fare scomparire anche completamente i sintomi. È chiaro che i sintomi rimangono latenti, scompare la malattia, scompare sulla cute, scompaiono gli interessamenti articolari, però il rischio di ricomparsa alla sospensione c'è ed è importante. E per questo va tenuta anche sotto controllo. Parlavamo appunto dell'insorgere di altre patologie legate appunto alla psoriasi, una di queste è la cosiddetta artrite psoriasica, ma a spiegarci meglio che cos'è è la dottoressa Francesca Molinaro, medico internista in casa sollievo della sofferenza. Ascoltiamola. L'artrite psoriasica o spondiloente su artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica articolare che si manifesta nei soggetti con psoriasi. La presenza di psoriasi o storia familiare di psoriasi è un criterio fondamentale ai fini diagnostici. Peraltro in alcuni pazienti le manifestazioni articolari possono precedere quelle cutanee all'incirca in un 10% dei casi. I pazienti con psoriasi nel 20% dei casi possono sviluppare questa artrite che da un punto di vista clinico è caratterizzata da diversi aspetti. Si può trattare infatti di un'artrite periferica con interessamento delle grandi articolazioni, soprattutto degli arti inferiori, per esempio un ginocchio, una caviglia, spesso in maniera asimmetrica e questa è la differenza dall'artrite reumatoide. O ci può essere un impegno delle dita, delle mani e dei piedi sotto forma di dattilite, che è patognomonica dell'artrite psoriasica. O ancora ci può essere un interessamento della colonna vertebrale o delle articolazioni sacroiliache. E quindi abbiamo i quadri clinici della lombalgia infiammatoria e della sciatica mozza che è caratterizzata dalla presenza di una sciatalgia che non scende al di sotto del ginocchio. E quindi è estremamente importante che il paziente con psoriasi si faccia vedere da un reumatologo quando presenta dei dolori articolari. Perché il reumatologo che insieme al dermatologo deciderà sulla sua più opportuna terapia, la quale avvalendosi dei farmaci biologici può essere in grado non soltanto di migliorare dal punto di vista clinico il problema, ma soprattutto di evitare un danno articolare e la progressione verso l'invalidità. Ringraziamo la dottoressa Morinaro per questa spiegazione. Anche qui facciamo un passo ulteriore e capiamo poi come si cura questa artrite psoriasica. La dottoressa accennava anche a questi farmaci biologici. Sì, allora l'artrite psoriasica chiaramente è una patologia che il dermatologo si trova a curare perché incontra il paziente con la psoriasi e bisogna oggi nell'anamnesi e nella raccolta dei dati sintomatologici, nell'esame obiettivo del paziente, valutare, chiedere. Ma lei ha anche altre manifestazioni cliniche, lei ha interessamento intestinale, l'enteseramento articolare e spesso diciamo, curiamo sempre in collaborazione con il reumatologo l'artrite psoriasica. L'artrite psoriasica ha un primo approccio con gli antinfiammatori tradizionali e gli antinfiammatori di ultima generazione. Passato questo livello chiaramente ci sono i biologici, i farmaci biologici che noi condividiamo nell'utilizzo, nella cura, tanto delle manifestazioni cutanee quanto delle manifestazioni articolari. I farmaci biologici attualmente, come dicevo prima, siamo tutti dei medici fortunati ad avere dei farmaci di ultima generazione. Già solo 10-15 anni fa non si poteva pensare all'esistenza di un farmaco di questo tipo. Si tratta di anticorpi monoclonali diretti contro mediatori dell'infiammazione, che bloccano quindi il nostro stesso organismo che sta producendo mediatori dell'infiammazione che vanno ad infiammare la pelle e le articolazioni contemporaneamente. Per cui con un solo farmaco si possono tenere sotto controllo diverse manifestazioni cliniche. I farmaci a disposizione, rispetto all'ultima volta che ci siamo incontrati, sono aumentati e adesso il ventaglio dei farmaci a disposizione è ampio. Anche ci sono oggi, anche small molecule, cioè piccole molecole, perché gli anticorpi monoclonali in realtà sono farmaci di grosse dimensioni e ci sono dei piccoli farmaci, farmaci di piccole dimensioni, ingeribili per os, mentre i farmaci biologici si fanno con punture sottocute. Questi farmaci, gli ultimi farmaci, ingeribili per bocca, sono utilizzabili anche in pazienti difficili, addirittura in pazienti oncologici che soffrono già di per sé per malattie differenti o ad esempio anche per malattie cardiovascolari. In passato non si potevano utilizzare i farmaci biologici per pazienti con uno scompenso cardiaco importante. Ora anche questi pazienti sono curabili o guaribili, come dicevamo prima. Quindi i progressi della medicina come sempre poi offrono nuove speranze proprio per la cura di tutta una serie di patologie. Scopriamo che appunto anche per la psoriasi accade appunto questo con questi nuovi farmaci. Abbiamo due minuti solamente prima del termine della puntata. Dedichiamoli un po' a dei consigli pratici. Cos'è che una persona che ha la psoriasi si deve o non deve assolutamente fare? Sì, tra le cause diciamo non ho fatto particolare cenno ai trigger, cioè ai fattori scatenanti. I fattori scatenanti sono importanti, c'è la predisposizione genetica ma anche lo stile di vita ha una certa influenza sulla manifestazione della malattia. Quindi diciamo è chiaro che se lo stile di vita è regolare, se non mi abbandono ad eccessi, se sono anche un uomo fortunato a non avere altre patologie di accompagnamento, è chiaro che comunque la malattia potrebbe anche non manifestarsi nonostante io sia predisposto. Poi la fotoesposizione, ecco tornando alla fotoesposizione, il sole non è da demonizzare, noi diciamo lo utilizziamo anche noi negli UVB a banda stretta. Un po' di esposizione sorare durante i periodi estivi senza ustione, senza ustionarsi chiaramente con uno schermo solare adeguato, è un altro consiglio assolutamente diciamo accettabile per prevenire la comparsa o comunque l'aggravamento della malattia. E cosa invece assolutamente non va fatto? Ad esempio immagino nelle zone dove c'è prurito, grattarsi o... Si chiama effetto Kebner e appunto se ci si gratta nelle zone anche dove non c'è malattia, a volte proprio nelle zone del grattamento fuoriescono chiazze di psoriasi, assolutamente no? Il grattamento comunque è sempre sconsigliabile in tutte le malattie dermatologiche. Benissimo, noi ringraziamo il dottor Melchionda per essere stato in nostra compagnia questo pomeriggio, speriamo di avervi spiegato qualcosa in più, vi ringraziamo come sempre per averci seguito in questo spazio. Spazio Salute ritorna la prossima settimana e noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV. Grazie a tutti.